Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su un nuovo video di FIFA 21 perché siamo nel 2021 e faccio la prima domanda il primo FIFA è stato inventato nel... in che anno è stato inventato il primo FIFA? rispondete nei commenti e vediamo chi indovina siamo su Volta Football, io sono il Manchester City e io sono il Paris Saint Germain perché oggi, oppure stasera stasera faremo la live su Fortnite di Neymar Junior che oggi è uscito selezioniamo lo stadio per la semifinale di andata tra Paris Saint Germain e Manchester City i protagonisti di questa giornata sono Mbappé e Neymar che uscirà anche su Fortnite come ha già detto il nostro Krikri JTV in squadra nel Manchester City ci sarà? non lo so, vedremo dopo speriamo che ci sarà Aghero ah no sì o Sterling guardate questo giocatore del Manchester City scrivete nei commenti il nome di questo giocatore del Manchester City che io non so chi sia dai vai, scegli uno c'è Dubai, l'abbiamo già fatto questo l'abbiamo già fatto c'è Milano, dai giochiamo a Milano andiamo a Milano con barriere, senza barriere senza barriere, così facciamo tipo flipper con barriere il flipper ah è vero, con barriere ok andiamo flipper e vediamo se riesco a fare di nuovo il mio record che vi ricordo nell'ultima volta ho fatto 14 gol su 15 per arrivare al mio nuovo record il mio record è 6 gol devo batterlo in questa partita mentre quello di Krikri è 15 gol ecco le formazioni delle nostre squadre per il Paris Saint Germain in porta Navas difensori difensore Florenzi poi come un altro difensore Kimbappé come due attaccanti Mbappé e Neymar Junior e per il Manchester City Ederson in porta Mendy in difesa Sterling e Jesus in attacco e De Bruyne centrale e vi ricordo che stasera c'è la live su Fortnite quindi entrate in mille dovete condividere la live alle 9 e mezza fino alle 10 e mezza sarà quindi buona fortuna vincerò vincerò potenza tiro è vero che siamo anche in palla matta siamo in palla matta non ve l'avevamo detto ecco che io sono su dai Gesù 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 tira Gesù no tira di Gesù boom cosa sono queste palle queste lampade ah già fammi prendere il potere Gesù tira Gesù devo prendere il potere ah sono di nuovo io Mendy devo prendere il potere ah ragazzi qui non c'è il fuori ha preso il potere della velocità no che bomber vai Gesù ma nella mia squadra gioca solo Gesù perché vai 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 Florenzi vai Mbappé vai Neymar 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 dove è la palla c'è la Navas per Florenzi per Mbappé vai lì vai Junior no non ci credo rispinge devi prendere un potere Brune tira devi prendere un potere Sterling Brune oggi devi prendere un potere go di Brune ok ok adesso devo traierdare devo fare il mio record e dai perché c'è il portiere qua allora è più facile no è più difficile fare gol Gesù mi sa che il record non riusciamo a battere perché c'è il portiere ma io l'altra volta c'era il portiere ma io riuscivo a fare sempre gol vai 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 quanto gol quante valeva uno che cavolo devo arrivare a 15 mi dai un punto no prendi il potere ho preso il potere e ho perso la palla ho preso il potere ho perso la palla oh 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 no oh tunnel ma sempre uno vale guardate che tunnel vai ok chi è questo sempre Gesù sembra che gioca solo Gesù oh Gesù Gesù esci no no che gol quanto vale con uno sì uno dai tre a uno devo arrivare a 15 questo è kimbump è passa ok vai su col portiere e se riuscissi a fare il gol del portiere che vale due no oh no vai quanto vale dai sempre uno e dai sempre uno che cavolo questo vale due devo fare un falso per là devo far subito gol ok ok no ma non è che mai di nuovo cambiato i comandi adesso devo verificare no sì ma no ma di nuovo 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 magari si cambia da solo guarda di nuovo mi fai sempre più scherzo la prossima volta devo verificare è qua no c'è il classico è giusto come funziona no aspetta magari sei diventato scarso ah no funzionano i comandi allora sono io che sono scarso ma non funzionano i comandi ma come è 5 a 1 ma come è possibile sì perché prima avevo fatto 4 gol da 1 no non lo so e tira oh palo prendo la potenza non riesco a nepprendere il potere preso il potere no io la preso avevo io la palla che fai a prenderlo tu mamma e dai boom go abbiamo la potenza tira adesso dai dai prendila no mamma mia no dai 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 due pali ho preso due pali e cavolo stavolta mi devo concentrare al massimo questo è l'ultimo tempo per arrivare al mio record e poi sono solo a quinta a cinque sono solo non c'è la metà e tira devo prendere il potere devo prendere il potere ok non c'è la scivolata no dai che siamo a 7 dai che siamo a 7 questa volta questo qui è tampanpea ma che è ma questo è Neymar ma non c'è neanche Neymar ah no non è Neymar è Kimbappé credo forse non so Kimbappé lo sapeva palla tutto palla tutto allora hai poco tempo mamma mia ok no no è finito no tira e palo vale 1 quando non c'è nessun bonus gli fammi prendere il potere ho preso io il potere no l'ho preso io sono io il paris ma se l'ho preso io il potere se l'ho preso io adesso lo puoi prendere tu ok no hai preso dai vai no 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 tum tum e che è sii grande furti voglio il var voglio il var quello è rientrato no non c'è il var no 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 è fallo ma come mai ah si ok vai Neymar vai Neymar vai sul fai ma cosa stai qui vai a giocare a Fortnite faccio sognare Neymar fallo no ma dai un record non era super valeva due no questo vale due troppo lei iai iai gola danza 7 a 5 posso fare la remuntada ecco che il Manchester City tenta la remuntada questo vale due se lo faccio io pareggio dai pareggio così si va i rigori magari potesse andare ai rigori si si aiuto ecco che il Manchester City rafforza la sua difesa c'è un'ambulanza ragazzi chi è che si è fatto male mancano 13 secondi alla fine del secondo tempo vai 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 No! Se... No! Come finisci? Che succede adesso? Ho vinto, valeva tre No! Come 18! Ah, ne mancavano cinque Aspetta Classico? Golden goal? Rigori? Ma... 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 Perché andiamo in rigori? Rigori! No, no! Annulliamo tutto, facciamo in rigori! Ok! Rigori! Rigori! Perché è tutta falsata questa partita! Ok! Si prende la responsabilità di calciare il primo rigore! Rigori! Siamo a dieci a otto e siamo... No! Sì! Ok, sembra così C'èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè così no ok e qui mi muovo veloce così ah va fuori secondo me è aspettato troppo tempo sto per spaccare tutto allora io devo tirare non devo fare tira si si come è finita e quindi forse ho vinto e cosa fa il portiere? è il balletto si è crashato ragazzi ragazzi è crashato come si è crashato? guarda il portiere che fa a questo punto dovrebbe correre si è bloccato tutto non va niente provo a schiacciare una cosa riprendi ma come? l'ambulanza ma che succede? schiaccia x ah x e che succede ragazzi è bangato ecco dopo un anno ho vinto ho fatto 11 gol no ma tutta questa partita non mi convince è tutta falsata va bene spero di che questo video sia piaciuto ciao ciao clicclici tv e ciao ciao